Siamo con Roberto Carlo Rossi che è il presidente dell'Odine dei Medici di Milano e con lui parliamo di certificazione, partendo da un tragico fatto di cronaca di cui hanno parlato tutti i giornali, ossia del fatto che una persona ha sparato in una riunione di condominio uccidendo addirittura quattro persone e in questa occasione si è parlato del fatto che per ottenere il porto d'armi è necessario un certificato medico, come è necessario anche un certificato medico per avere la possibilità di recarsi a un poligono di tiro. Quale può essere il profilo di responsabilità di un medico che ha rilasciato questo certificato se poi succede un fatto tragico come questo? Ora naturalmente noi non possiamo entrare nel singolo fatto perché ogni fatto va analizzato a parte e questo è importantissimo da dire e ogni fatto ha i suoi profili di correttezza e scorrettezza diciamo quindi noi non possiamo sapere il fatto in sé. Diciamo che in linea di principio, in linea di massima come sempre i certificati impegnano in prima persona la responsabilità e la professionalità del medico che li redige perché notoriamente certificare viene dal tardo latino e vuol dire fare certo una determinata cosa. Spesso mi capita nelle lezioni che faccio ai ragazzi del triennio o all'università di parlare di attività certificativa e ogni tanto qualcuno osserva che la legislazione italiana, a parte che è un po' troppo provvida di certificati e questo forse effettivamente andrebbe corretto, ma comunque la legislazione italiana ogni tanto chiede dei certificati anamnestici o dei certificati che in qualche modo abbiano a che fare con i precedenti morbosi o con qualche cosa che implica una dichiarazione del paziente. E allora uno dice vabbè ma se poi allora uno basta che va dall'ufficiale di stato civile fa un'autodichiarazione e quello va già bene. No perché le autorità, e qui si entra nella specifica responsabilità del medico certificatore, le autorità chiedono al medico curante nel caso appunto del rilascio per esempio del certificato per l'idoneità alla guida di veicoli a motore o nel medico proprio di famiglia sostanzialmente, quello che oggi si chiamerebbe il medico di assistenza primaria ciclo di scelta perché adesso è diventata complicatissima l'addizione, chiede a questo medico di redigere un certificato che ovviamente ha a che fare con i precedenti, con un fatto anamnestico del paziente, gli chiede se ha avuto dei problemi con le tossicodipendenze, se ha avuto dei problemi psichiatrici eccetera. È evidente che la legge affida al medico che raccoglie queste dichiarazioni una cura speciale perché lui è il medico di fiducia dell'assistito e innanzitutto ne conosce la storia quindi al di là di quello che uno dichiara ci mette la sua professionalità e poi dovrebbe anche avere una scheda sanitaria individuale dell'assistito quindi se ha prescritto dei farmaci psicotropi, se ha prescritto dei farmaci in qualche modo che entrano anche nel passato, che entrano nel funzionamento della mente del paziente in qualche modo questa cosa deve saperla perché è presumibile che la sappia in ogni caso è ovvio che se nessuno potrà mai dire io non sapevo io faccio sempre un esempio paradossale, se il paziente si presenta vestito di rosso da ribaldino con un fischietto in bocca e fischia e chiede magari ti ha scelto una settimana prima e chiede il certificato dicendo che lui non ha nessuna patologia psichiatrica è ovvio che tu non glielo puoi lasciare perché è lì, in quel caso come dire fa ridere perché è per l'ingenuità anche della vicenda eccetera ma tanto che appunto la presento come esempio di scuola ma insomma voglio dire senza arrivare a quei paradossi quindi è evidente che il medico impegna la sua professionalità nel rilascio quindi in altri termini il medico deve fare di tutto sia nel visitare il paziente, sia nel fargli l'anamnesi sia nel guardare la scheda sanitaria individuale sia nell'informarsi eventualmente se c'è qualche cosa di strano anche magari con esame strumentale o chiedendo al collega a cui era in carico precedente se riesce a recuperarlo se il paziente gli dice chi era diciamo in qualche modo deve risalire perché soprattutto se ci sono degli elementi come dicevo che fanno pensare che ci sia qualche cosa di strano sotto insomma ecco perché il medico ha in linea di massima ha una certa responsabilità nel rilascio di questo certificato poi naturalmente dopo il rilascio di questo certificato ci sono altri step di controllo c'è lo step della pubblica sicurezza insomma voglio dire ci sono altri passaggi c'è il passaggio a livello delle strutture pubbliche per quanto riguarda la valutazione dei parametri diciamo minimi fisici per poter avere il porto d'armi eccetera quindi ci sono diversi momenti quindi la legislazione tutto sommato non è fatta male tutti questi momenti però devono essere tutti ben funzionanti, ben oliati allargando un po' il discorso a questo momento storico della professione del medico di famiglia che come sappiamo è sotto pressione come tutto il resto della sanità per molti motivi e tra l'altro è sotto organico nel senso che sono sempre più i pensionati e non c'è ancora il ricambio sufficiente ecco la certificazione ma oltre alla certificazione anche le altre attività, la ricettazione e tutto il resto come si inseriscono in questo contesto? All'epoca pandemica ha poi impresso sia un ulteriore aggravio sui medici innanzitutto perché gli obblighi burocratici sono diventati veramente enormi quindi l'epoca pandemica invece che semplificare ha reso più complesso tutta una serie di oneri e poi anche perché l'utilizzo del mezzo informatico che prima era abbastanza tutti i medici di famiglia sono informatizzati al 99,9% perché ormai è un obbligo è proprio un obbligo convenzionale nel senso che ci sono alcune cose che si fanno in convenzione che sono solo possibili con l'informatizzazione ma al di là di quello il rapporto col paziente non era... perché lì c'era un ad libitum non so come dire ognuno si comportava come voleva ora alcuni dispositivi di legge sia nazionali che regionali nell'epoca pandemica hanno reso possibile un contatto con il medico di medicina generale anche attraverso altri canali la messaggistica istantanea chi la vuole usare l'email chi la vuole usare nessuno ha mai detto come deve essere fatto questa cosa come deve essere fatta ma insomma si è chiesto a tutti i medici di essere più disponibili al di là degli stretti orari di convenzione rendersi un po' più disponibili anche con mezzi che ognuno può scegliere quali siano e questo ha determinato un importantissimo aggravio io conosco tanti colleghi che veramente tornano a casa mezzanotte dallo studio non perché visitano fino a mezzanotte ma perché magari hanno il solito numero di appuntamenti che ovviamente dopo i primi mesi dove effettivamente magari qualcuno non riceveva perché con ragione c'era c'era pericolo eccetera ma poi tutti hanno ripreso a fare la propria attività ambulatoriale e insomma quindi hanno gli stessi appuntamenti di prima e nelle ore di studio la stessa burocrazia da sbrigare perché ovviamente c'è le ricette l'attività insomma appunto di ripetizione di farvi di ricettazione anche di certificazione a volte eccetera e poi in più si sono tutti queste modalità per cui uno non finisce mai di lavorare tutto questo complesso di attività rende veramente l'attività del medico di medicina generale di famiglia di assistenza primaria appunto è molto molto onerosa anche a questo proposito mentre stiamo registrando questa intervista sembra quasi scontato che si vada verso un rinvio della scadenza che sarebbe a fine anno della possibilità di fare di inviare la ricetta per via elettronica questo voi lo davate un po' per scontato mi sembra dunque l'epoca pandemica ci ha lasciato alcuni alcuni regali positivi pochi ma diciamo noi tutti abbiamo imparato a utilizzare la tecnologia che stiamo utilizzando anche noi due in questo momento peraltro i programmi e la possibilità di farlo c'erano ormai c'erano da dieci anni insomma forse anche di più però pochissimi utilizzavano se non le multinazionali e queste cose un po' da film da spy story diciamo noi vedevamo alla televisione o guardando le serie tv questi qua che parlavano con questi metodi e in realtà la tecnologia ovviamente c'era come ho detto c'era già ma semplicemente noi non li usavamo beh questo devo dire allora niente per quanto riguarda l'apprendimento per quanto riguarda la comunicazione eccetera eccetera ma anche in altri campi più attinenti con la medicina per esempio anche un teleconsulto ecco no un contatto io non la chiamo visita perché quella non è una visita ma insomma un contatto col paziente che implichi anche la fruizione di immagini può a volte essere davvero interessante importante quindi ci sono una serie di cose che noi abbiamo preso come regalo certo il contatto diretto è tutta un'altra cosa apprendere in via diretta è tutto un altro discorso lavorare con i colleghi scambiarsi le opinioni è tutto un altro fatto però queste modalità consentono di risparmiare di accorciare i tempi eccetera dal lato dell'attività proprio diecamente burocratica noi abbiamo ricevuto una serie di di non so che se chiamarli doni ma insomma eh peraltro anche lì il paradosso è che noi io ricordo che questi provvedimenti ehm sono credo del 2010 2011 2012 non mi ricordo ma insomma erano già in essere da tantissimo tempo cioè la ricetta smaterializzata ehm e che quindi doveva diventare del tutto virtuale era già nel nel corpus legislativo dello Stato da più di un lustro quindi eh voglio dire eh le regioni i farmacisti un po' tutti erano tutti un po' eh no resti a acquisire questa modalità di lavoro è un errore gravissimo e adesso la pandemia ha reso più sicuro non frequentare le strutture sanitarie o gli ambulatori o gli studi medici a meno che non ci sia eh una reale necessità di appunto farsi visitare toccare o guardare delle cose perché quello è funzionale a una migliore assistenza ma se è semplicemente da ritirare una una ricetta o da farla circolare e poi andare dal farmacista per farsi dare il farmaco francamente quello davvero eh fa ridere il fatto che uno debba andare in studio dire alla segretaria guardi la stessa pillolina che io sto prendendo da tre anni per la pressione alta mi fa altre due scatole per piacere allora la segretaria va dal medico gli fa fare la ricetta quello viene un'altra volta la viene a ritirare e deve andare dal farmacista con la ricetta queste cose sono veramente un rettaggio del passato ora stupisce che questi provvedimenti siano anzi la parte applicativa di questi provvedimenti siano ancora legati a ehm decreti decreti applicativi decreti ministeriali eccetera che in qualche modo sono stati emanati in un periodo di emergenza noi abbiamo bisogno di stabilità cioè è ovvio che questi provvedimenti che sono stati confermati e il le autorità sono state spinte a farli finalmente dopo anni che già potevano farle eh farli eh è ovvio che questi provvedimenti devono diventare far parte del corpus legislativo dello Stato italiano non c'è neanche da dirlo io con terrore penso al fatto che si ritorni alla ricetta rossa eh del poligrafico dello Stato che peraltro purtroppo in alcuni casi dobbiamo utilizzare ancora perché non si capisce perché ma ogni tanto qualche qualche farmaco o qualche qualche terapia non si può prescrivere sulla ricetta smaterializzata e non si capisce perché voi dedicate come ordine so che dedicate particolare attenzione ai giovani medici ehm che iniziano appunto eh la carriera rimanendo sulla medicina di famiglia che è il target della nostra rivista ecco quali può essere oggi ancora un motivo per fare il medico di famiglia purtroppo devo dire che l'unico motivo ma è molto forte è nel rapporto speciale che tu hai con le persone che ti si siedono davanti e il rapporto che si crea che non è un rapporto di falsa amicizia non è un rapporto paternalistico non è una serie di cose sbagliate è un rapporto medico paziente però in un entourage familiare che lo connota di un sapore molto particolare di un'empatia particolare perché io ho persone che ho visto ragazzini e sono cresciuti si sono sposati adesso hanno i figli e i figli sono diventati grandi e sono quasi da da marito o da moglie pure loro quindi quando tu segui delle persone così tanto tempo anche se le vedi una volta all'anno è ovvio che si crea un rapporto speciale che è difficilmente scalfibile infatti quando le persone si affidelizzano con il proprio medico così insomma io so tutto di loro e loro sanno delle cose anche non dico private questo no perché non sarebbe giusto ma loro diciamo mi conoscono molto bene come medico questo è l'unica veramente l'unica motivazione che rende bello questo mestiere perché insomma tu gli chiedi vai a a prendere il paziente là dove no sai che magari ci sono delle problematiche anche appunto di salute oppure riguardo agli stili di vita eccetera eccetera ma senza emettere giudizi o fare appunto i falsi paternalismi proprio nel suo interesse quindi è veramente sono veramente quei casi in cui se tu dici una cosa loro ci credono cioè nel senso spesso io mi sento rispondere da queste persone dottore se lo dice lei inutile che mi sta qui a spiegare io cerco sempre di no però io mi fido cioè vengo qui da lei da vent'anni quindi mi fido di quello che dice lei questa cosa effettivamente ti ripaga di tantissimi momenti anche difficili che si vivono perché l'utenza quando non c'è questo rapporto magari insomma non c'è un rapporto più superficiale oppure magari hanno rapporti col personale di studio e non vedono direttamente il medico perché vengono a chiedere delle cose di natura burocratica o di altra natura che non siano cose strettamente connesse con un problema di salute di un certo tipo è ovvio che il rapporto è molto più superficiale e a volte insomma alcune persone non sono proprio però anche lì ecco io dico sempre no la medicina generale potrebbe evolversi l'evoluzione spesso viene intesa in senso tecnocratico no viene intesa in devo fare la spirometria l'elettrocardiogramma l'ecocardiogramma l'esame di laboratorio il non so che cosa per farmi per diventare bravo no ma la medicina la medicina generale l'evoluzione della medicina generale non è in senso cioè non deve essere in senso tecnologico o comunque non non è quello la la cosa importante da fare no cioè deve sempre essere qualche cosa che va nel segno di essere più vicino ai propri pazienti di essere